Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno La città muraria di Cinzia Jelenkovic, seconda puntata I cenobi agevolano la costruzione di forme signorili di potere territoriale e rappresentando un punto di riferimento per la popolazione locale rafforzano l'affermazione sociale della casata stessa. Solamente sul versante orientale dei monti rivornesi si assiste a una riutilizzazione della strutturazione preromana in un ciclo di recupero dell'impianto dell'antropizzazione. Fra i centri fortificati alcuni palesano un assetto urbanistico definito dalla funzione di rifugio temporaneo, come Castellanselmo in Val di Tora, altri di nuclei stabilmente abitati, quali Rosignano e Parrana. Ma in ogni caso non costituiscono elemento cardine né per il potere signorile né per il paesaggio, configurandosi quale una delle molteplici forme di insediamento sul territorio. L'assetto strutturale dei castelli che emerge dalla lettura dei siti si delinea in una tipologia di impianto elementare, i cui apparati difensivi, cerchia muraria e torre, vengono edificati dapprima prevalentemente in legno e successivamente, con la svolta edilizia del X-XI secolo, in pietra. Una cerchia difensiva in muratura sottende il raggiungimento di una maggiore coscienza progettuale dell'impianto urbano e del concetto di limite e confine dell'abitato, in una ragionata scelta della disposizione al suo interno degli edifici rappresentativi del potere economico, politico, religioso e dello spazio ad essi riservato. Nonostante la presenza di centri incastellati, lo sviluppo di giurisdizione signorili è pressoché assente. Il finitimo comune pisano impedisce l'istituzione di diritti signorili di privati su terreni demaniali della marca o della contea e soprattutto agisce da inibitore della fondazione ex novo di Castelli o alla fortificazione di insediamenti preesistenti in una politica di controllo territoriale da parte dell'autorità pubblica per evitare l'indebolimento della potenza economica pisana. Solo Livorno, che insieme a Nugola continua a mantenere i propri diritti signorili, quali unici due castelli marchionali, rappresenta l'unico centro incastellato sulla piana afferente Porto Pisano. L'incastellamento di Livorno risale al 1700 ad opera del marchese Ugo della Marca della Tuscia. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it